Ciao e benvenuto al ventinovesimo quiz time di BTD6. Io come sempre sono Manolax. Ripetiamo velocemente la regola, un solo commento a persona. Il quiz termina domenica 11 settembre alle ore 18 e la domanda è la seguente che vedete a schermo. Di che eroe si tratta? Scrivetevelo nei commenti e buona fortuna con il quiz.